Forza e onore, forza e onore, al mio segnale. Scatenate all'inferno. Grazie. per giudica in questa seconda strumenta Edoardo Giulio intanto l'avversario Steve Bueh della Bretagna ha promulgato la presa come siamo sul parziale 2-0 per la mezza Sardo e non pronti dell'atleta Bretton e già giudica questa strutta l'atleta Bretton Edo Bueh nei confronti di Edoardo Giulio quindi siamo sul parziale il 2-1 per l'atleta Sardo per la categoria sono i 100 kg si preparino Francesco Lusone di numero e Marco Giulio sempre di numero si aggiudica in questa strutta l'incontro Edoardo Giulio e Giro 3-1 per l'atleta Bretton il 2-2 per la categoria è un 100 kg un verbi tutto guarda vicino tra Francesco e Rosui di numero e Marco Gignotti sempre di numero per la categoria sono i 100 kg il super stai guarda qui mi ricordo che sono rimasti ancora poche magliette di Guerrero Signore, date un piccolo contributo all'associazione, grazie. Grazie. Ricordo ancora il gestore pubblico che siamo in diretta streaming sul sito dell'associazione sastrumpa www.sastrumpa.it Si aggiudica con la sastrumpa Marco Giulio Tutunora, tutti che siamo sul parziale, 2 a 0, nei confronti di Francesco Rusui, sempre giugno. Ci preparano, sempre per la categoria sotto i 100 kg, Edoardo Diet, Leon e Fraser Irish Sturzio. Edoardo Diet, Leon e Fraser Irish Sturzio. Qui? Sì, è una natura di questa. Andate, andate a tutti i 1-2-3-4-1-1-2-3-3-4-1-2-2-2-3-4-2-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-4-5-4-2-4-4-2-4-5-4-2-4-1-2-2-4-4-4-2-4-2-4-2-4-2-2-4-6-3-4. Chi preparano? per attivare il terzo porto posto Francesco Roslui, Nuoro e Leonardo Diez e Leone si giudica la prima scrupa Brian Dowland campione di scorsa e campione europea della sua parte grazie a tutti Grazie a tutti. Si preparano per la finale terza quarto posto, categoria sotto 12 kg, Francesco Rusi di Amuro, Luardo Pietro Leone. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.